di cui non si parla tanto, ma che in fondo, come vedremo nel corso della serata, influenza molto le nostre vite, proviamo a parlare di finanza. Luca ha scritto questo bel libro, è molto ricco di informazioni, che poi è anche disponibile qui, la posta in giochi insieme ad Antonio Tricarico e nel corso della serata proveremo a fare un parallelo tra quella che è la finanza pubblica, rappresentata da Cassa Depositi e Prestiti e quella che può essere anche la finanza privata, perché viviamo in un momento in cui la crisi che dal 2008 stiamo tutti attraversando ormai è assodata, che è una crisi che è stata causata dalla finanza e paradossalmente, almeno in banca etica, crediamo che una delle risposte alla crisi possa essere una finanza diversa e molto probabilmente il ragionamento che vi farà Luca su Cassa Depositi e Prestiti riguarda proprio concretamente una possibile via riuscita dalla crisi attraverso una finanza pubblica diversa. Penso che tutti sapete cos'è banca etica, se no ve lo dico in due secondi. Perfetto. Come modalità di incontro, visto che siamo in pochi, vi proporrei più che farci parlare e basta, magari se ci sono domande, interventi, richieste di approfondimento, le facciamo più che tutte alla fine, magari punterei a cercare di costruire anche un minimo di dialogo in modo da approfondire, in modo da tenerci anche tutti un po' partecipi della discussione. Dicevo, la finanza privata è uno dei principali motori di questa crisi, nel senso che un bel momento a partire dal 2008 è crollato un gigantesco castello di carte, ovvero alcune banche d'affari, soprattutto negli Stati Uniti, si sono trovate a gestire, adesso la semplifico molto, ma per andare poi dentro il ragionamento, si sono trovate a gestire una quantità ingentissima di contratti derivati di finanza spazzatura che a un bel momento non hanno più saputo dove rigirare, l'hanno provata a rigirare i cittadini attraverso tutta una serie di prodotti di investimento, ma tutto questo castello di carte viene meno, comincia a crollare il sistema su cui tutti ci reggevamo, un sistema fondamentalmente basato sul debito privato, poi reincartato dalle banche e iniziamo a scoprire che gli unici soggetti che non potevano in qualche modo fallire all'interno della crisi erano proprio le banche, così i governi iniziano a spendere un sacco di soldi per evitare che banche cosiddette sistemiche fallissero, questo è successo sia in Europa sia negli Stati Uniti, cominciano a venire meno le risorse pubbliche per tutta una serie di servizi dal sociale alla scuola alla sanità e tutti noi ci troviamo improvvisamente catapultati in questa situazione. Uno dei dati più impressionanti sono la quantità di miliardi di Euro che la Banca Centrale Europea ha in questi anni pompato all'interno delle banche con la finta promessa che questi soldi venissero prestati all'economia reale, in realtà cosa fanno le banche con questi soldi? Non li usano per finanziare le imprese e le famiglie, li usano semplicemente per comprare, visto che pagano alla Banca Centrale Europea un tasso di interesse dell'1% su questi soldi iniziano a comprare fondamentalmente titoli di Stato che comunque danno un rendimento quel pochino più alto con cui loro senza muovere un dito fanno un utile. La domanda di fondo dietro tutto questo e dietro anche il ragionamento del libro, secondo me è questo, ovvero questo sistema finanziario che in fondo si ripervuote così direttamente sulle nostre vite, è proprio incomprensibile, va per forza appaltato ai tecnici oppure è un qualcosa dove tutte le persone possono partecipare. La domanda è una domanda di base, ovvero quando io deposito i miei soldi in banca, ma non solo come vedremo questa sera, quanti di noi si fanno la domanda, ma questi soldi nel frattempo che fine fanno? Nel senso che l'unica sicurezza che noi vogliamo è che questi soldi a un bel momento siano di nuovo disponibili, siano di nuovo a nostra disposizione quando li rivogliamo indietro, in realtà se con questi soldi ci togono in qualche modo il terreno da sotto i piedi, sicuramente poi li possiamo riavere, ma probabilmente avremmo perso tutta una serie di altre cose che è un po' quello che è successo. La domanda invece che si pone nel libro di Luca è i soldi dei depositi postali, che fine fanno una volta che io vado nel deposito e nelle varie forme di risparmio postale previste? Come vengono utilizzati? Questi soldi vengono utilizzati, gestiti da Cassa Depositi e Prestiti. Inizierei richiedendo a Luca le cose veramente di base invece qui su Cassa Depositi e Prestiti, cioè cos'è Cassa Depositi e Prestiti, quando è nata e un po' come si è trasformata nel tempo, quale sarebbe lo scopo sociale originario di Cassa Depositi e Prestiti e un po' cosa è diventata nel corso degli anni. Allora, grazie Andrea per l'introduzione e grazie anche al Comune di Sant'Orso per l'invito per questo ciclo di incontri con Altra Economia e a voi ovviamente che siete venuti qua stasera. Allora, Cassa Depositi e Prestiti è un soggetto ibrido nel panorama della finanza italiana, nel senso che formalmente non è e non è mai stata una banca. Te fino adesso hai parlato di banche e Cassa Depositi e Prestiti non è mai stata una banca. È in realtà o è nata come ente di diritto pubblico, quindi come una delle tante istituzioni dello Stato, è nata oltre 150 anni fa e aveva un compito specifico, raccogliere risorse, in questo caso dai cittadini, nel senso che da sempre Cassa Depositi e Prestiti raccoglie e risparmio dei cittadini italiani attraverso il circuito delle poste e per utilizzarlo con un compito specifico che era quello di garantire a tutti gli enti locali e tutti gli enti territoriali la possibilità e la capacità di realizzare investimenti sul territorio finanziandosi non sul mercato, quindi non dalla finanza privata, ma finanziandosi presso un istituto di diritto pubblico che garantiva risorse a un tasso agevolato. Questo è un sistema che ha funzionato per circa 140 anni. Poi, dieci anni fa, nel novembre del 2003, quando il ministro dell'economia era Giulio Tremonti, venne decisa la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in un ente di diritto privato, cioè in una società per le azioni e la sua parziale privatizzazione. Nel fine 2003 entrarono nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti le fondazioni bancarie, entrarono 66 fondazioni bancarie che presero il 30% delle azioni della Cassa. Da quel momento in poi Cassa Depositi e Prestiti è diventata mano a mano e direi in forma crescente o, diciamo così, per fare il parallelo con quello che diceva Andrea, in modo direttamente proporzionale all'evoluzione della crisi finanziaria, Cassa Depositi e Prestiti è diventata sempre più un soggetto forte del panorama del sistema finanziario del nostro paese. La faccio in maniera più semplice, man mano che le banche private, le grandi banche quotate in borsa che noi siamo abituati a considerare come quei soggetti che non potrebbero fallire da Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, vedevano assottigliarsi la propria capacità di intervenire nell'economia italiana, perché i loro bilanci risentivano pesantemente della crisi, Cassa Depositi e Prestiti che si trova con una forza significativa, con una capacità di spesa di circa 200 miliardi di Euro, perché questa è la liquidità che oggi Cassa Depositi e Prestiti è in Cassa, diventava mano a mano protagonista di ogni settore dell'economia nazionale. Cassa Depositi e Prestiti da unico soggetto ente di diritto pubblico è diventato un gruppo, come se fosse una holding industriale, al suo interno ha diverse ramificazioni, società controllate, fondi di investimento che oggi le permettono o che oggi fanno sì che spazi con le proprie attività, dal settore delle infrastrutture alle energie rinnovabili, alla gestione dei servizi pubblici locali, alla gestione degli aeroporti, alcuni la chiamano la nuova IRI, come se fosse un soggetto pubblico che interviene nell'economia e che promuove un'economia di Stato. Dal punto di vista mio e di Antonio Tricari, come firma con me questo libro, non è così, perché se così fosse l'interesse che muoverebbe le scelte economiche della Cassa sarebbe l'interesse generale, sarebbe il bene comune, sarebbe l'interesse collettivo. In realtà, e poi magari lo vedremo dopo, molte delle scelte di investimento della Cassa rispondono a tutt'altro che, dal mio punto di vista rispondono a tutt'altro rispetto al vero interesse del Paese. Sì, capito un po' da dove arriva Cassa Depositi e Prestiti, l'altro paragone interessante con il ragionamento che facciamo come banca etica è quello di capire un po' chi è che decide dove dare i soldi. Allora in banca etica, voi sapete è una banca cooperativa costituita 15 anni fa, è nata proprio a Padova, adesso opera in tutta Italia con una rete di filiali e bantieri ambulanti e attualmente ha poco più di 38 mila soci. Il ragionamento interessante di banca etica è che il consiglio di amministrazione più tutti gli organi di controllo della banca sono eletti direttamente dai soci, con il principio di una testa a un voto, quindi se ho 5, 10 o 100 azioni, il mio voto all'assemblea dei soci varrà sempre uno. Quindi il ragionamento è proprio questo. In banca etica le persone, i proprietari della banca sono in qualche modo anche quelli che esprimono il governo della banca e ne orientano anche le scelte strategiche attraverso una ramificazione territoriale fatta da volontari, nel panorama internazionale probabilmente l'unica banca vera e propria che ha una rete di volontari, in Italia ci sono 70 gruppi di volontari attivi, che mi stupisce sempre quando dico dove lavoro una banca che ha i volontari e che però in cambio di questo loro volontariato, attivismo per il cambiamento richiedono poi alla banca che sia trasparente, quindi che sa, loro devono poter sapere come vengono investiti i loro soldi e di poter dire da loro. Invece in cassa depositi e prestiti chi è che decide la governance, cioè chi governa la banca e chi è che decide come utilizzare i soldi che in fondo in realtà sono soldi, certo è una SPA, però i soldi che utilizza questa SPA li fabbricano o di chi sono questi soldi? È vero, è importante essere chiaro su questo, cassa depositi e prestiti investe quasi integralmente i risparmi dei cittadini italiani, risparmi che sono depositati sui libretti di risparmio postale o che sono investiti nei buoni fruttivi postali. Rispetto a una banca tradizionale, quindi che non fa una delle differenze rispetto a una banca tradizionale, abbiamo già visto che il cassa depositi e prestiti non deve preoccuparsi di fare raccolta, perché c'è qualcun altro che lo fa per lei. Un'altra differenza fondamentale rispetto a una banca tradizionale è che lo Stato è sostanzialmente il prestatore di ultime istanze, ovvero che se uno acquista un buono fruttifero postale, qualora questi soldi venissero investiti nella maniera sbagliata, qualora cassa depositi e prestiti non fosse in grado di rimborsare il buono, tutto a garanzia dello Stato. E immaginerete che questo permette anche di prendere delle decisioni abbastanza importanti. Per farvi un esempio, ed è una cosa che ho provato ad affrontare qua sul numero di marci delle altre economie, c'è un articolo sulla privatizzazione delle poste, nel descrivere ciò che accade, ciò che potrebbe accadere con la privatizzazione delle poste, parlando del tema dei buoni fruttiferi postali, chiedendo se c'è un limite per ogni buono che viene messo alla sottoscrizione, loro ti dicono che i buoni vengono emessi a rubinetto. L'ufficio stampa dei cassa depositi e prestiti mi ha spiegato che in gergo si dice a rubinetto, nel senso finché loro vogliono, loro vendono. Tanto poi dietro non devono avere un patrimonio di vigilanza della banca a coprire le risorse che poi mettono o garantiscono al mercato, loro o semplicemente hanno qualcuno, cioè lo Stato, che garantisce per ogni singolo Euro di valore dei buoni fruttiferi postali emessi. Questo sul fronte della raccolta, che quindi è molto democratica, nel senso che alla fine sfruttando la rete degli uffici postali, cassa depositi e prestiti si può dire che è la banca con il maggior numero di filiali del nostro Paese, nel senso che a nessuna banca privata verrebbe dato il permesso di detenere una posizione del genere. L'antitrust ha sanzionato in tutto il periodo, diciamo che è iniziato dalla fine degli anni 90, delle progressive aggregazioni tra le banche commerciali, tra le vecchie casse di risparmio. È successo in più occasioni che l'antitrust, l'autorità garante per la concorrenza del mercato ha sanzionato alcune banche obbligandole a vendere degli sportelli, perché sennò avrebbero avuto o su un singolo territorio o nel contesto nazionale una posizione dominante che non si poteva detenere. Cassa depositi e prestiti, sfruttando gli uffici postali, questo problema non lo vive e non lo affronta. Se c'è questa democrazia nella raccolta delle risorse, non c'è la stessa democrazia nei processi decisionali, nel senso che sostanzialmente la Cassa ha due soggetti che ne indirizzano in maniera significativa l'azione. La prima sono le fondazioni bancarie, per darvi un'idea sono l'azionista di minoranza, oggi, prima avevo parlato del 2003, oggi detengono il 18% delle azioni, ma nominano il Presidente, che è Franco Bassanini, ex Ministro in più governi, già deputato e senatore in diverse legislature. L'altro organo di indirizzo pesante e importante è il Ministero del Tesoro, che è il primo azionista e che ha senz'altro potere di decisione rispetto all'azione della banca. Io credo che questo sia un aspetto importante, da una parte oggi viviamo questo potere di indirizzo del Ministero del Tesoro in maniera quasi totalmente negativa, nel senso che il Ministero del Tesoro avalla scelte o decisioni che personalmente non mi sento di condividere. Vi faccio un esempio, degli ultimi mesi, a dicembre Cassa Depositi e Prestiti ha deciso di finanziare la tangenziale est-esterna di Milano, cioè una autostrada che verrà realizzata in un'area che è un parco agricolo, che avrebbe dovuto essere finanziata dai soggetti bancari privati perché doveva essere realizzata in project financing, parole che magari si sentono anche qua in zona parlando della pedemontana venta, e che in realtà siccome le banche private non ce le hanno messi questi soldi e poi i cantieri erano partiti lo stesso, siccome bisogna andare avanti, i soldi sono arrivati da Cassa Depositi e Prestiti. Queste scelte, che probabilmente rispondono a delle logiche che vedono il governo italiano completamente d'accordo, di certo non risponderebbero, immagino, se si tenesse mai un'assemblea di tutti i risparmiatori postali dell'est milanese, alla volontà che questi risparmiatori postali farebbero emergere da una consultazione popolare o da una richiesta di parere in merito a come o a quale sarebbe il modo migliore di usare i loro soldi sul loro territorio. Sì, diciamo, quindi capito un po' il meccanismo di funzionamento, la cosa più interessante rispetto a Cassa Depositi e Prestiti è che in fondo noi, perché il Ministro del Tesoro ha espressione in qualche modo del paese in cui viviamo, siamo l'azionista di maggioranza, però le scelte seguono delle dinamiche totalmente lontane, ma questa riguarda anche quello che dicevo all'inizio, quanto noi ci interessiamo di queste dinamiche o quanto ci sono in parte tenute nascoste, in parte abbiamo anche accettato che nell'utilizzo del denaro in qualche modo noi in queste dinamiche non vogliamo più entrare di fatto sostanzialmente la banca o la posta, il luogo dove io metto i miei soldi, però cosa succede subito dopo questo gesto? In fondo non ce lo siamo mai chiesti. Uno dei ragionamenti secondo me centrali nella riflessione che il libro ci propone è quello che riguarda il ragionamento sugli enti locali, ovvero Cassa Depositi e Prestiti nasce per prestare denari agli enti locali con i quali gli enti locali avevano una sorta di tasso agevolato e quindi ha maggior facilità di reperire fondi per stipulare mutui anche a lunghissima durata e quindi in qualche modo facilitare il funzionamento dell'ente locale che poi è quello che ci dà tutta una serie di servizi sul territorio. Nel momento questo meccanismo si inceppa da un lato perché Cassa Depositi e Prestiti rispondendo probabilmente alle logiche più della società privata che non la società di servizio pubblico, dall'altro però anche per tutta una serie di ragioni secondo me molto interessanti che vengono approfondite anche in modo molto chiaro e semplice che però sono le cose che sentiamo ogni giorno adesso, fatto di stabilità eccetera eccetera quindi secondo me volevo chiedere a Luca se ci introduce un po' bene a questo concetto ovvero perché gli enti locali non possono più accedere a queste risorse, qual è il meccanismo che si inceppa negli anni? Il meccanismo di spesa degli enti locali che si inceppa per quanto riguarda che si blocca collegato al patto di stabilità riguarda la capacità di spesa e la capacità di indebitamento dell'ente e di sostenere la propria spesa corrente, la propria spesa per investimenti con un ulteriore indebitamento, ovvero avendo la capacità di accedere a nuovi mutui. è un meccanismo o è un disposto legislativo che da una parte chiede agli enti locali di farsi carico della necessità di contenere il debito pubblico ma che dal nostro punto di vista di vista dell'entità debitoria i comuni italiani sono indebitati per 135 miliardi di Euro su oltre 2 mila miliardi di Euro di debito pubblico, quindi meno del 10%, però la gran parte della capacità o dell'esigenza di rientro viene calcata sulle spalle di questi enti. Dal nostro osservatorio questo avviene con una finalità precisa che è annichilire gli enti locali, che come ricordavi sono quelli però che dovrebbero garantire fuori mercato l'accesso ai servizi al cittadino. Cassa depositi e prestiti in questa situazione arriva a giocare un ruolo perverso, nel senso non è più il soggetto che presta agli enti locali che non possono più spendere i soldi per fare investimenti sul territorio ma diventa colui che forte della straordinaria liquidità che ha a disposizione arriva a dire vabbè sai che c'è quest'anno per chiudere in pareggio al bilancio ti potresti disfare e della casa del custode della villa. Non fai che approvare una variante urbanistica così che questo spazio possa diventare un hotel o degli appartamenti di lusso e poi me lo vendi e io te lo compro. Oggi Cassa depositi e prestiti si sta comportando più o meno in questo modo o direttamente o attraverso fondi di investimento o società controllate fa questo. Nell'arco di un mese a fine dicembre ha acquisito immobili da alcuni enti locali che erano in particolare difficoltà per chiudere il bilancio 2013 pagandoli cash qualcosa come 190 milioni di euro per operazioni concluse veramente nell'arco di tre giorni tra Natale e Capodanno. Probabilmente comuni particolari viene da pensare uno è il comune di Firenze che era amministrato dall'attuale presidente del Consiglio che aveva iscritto a bilancio preventivo 2013 un valore di 23 milioni per rispettare il patto di stabilità avrebbe dovuto vendere beni immobili di proprietà per 22,9 milioni di euro. Non è riuscito a farlo nell'arco di tutto l'anno e il 27 dicembre ha venduto al teatro comunale a un fondo di investimento di cassa depositi e prestiti per 23 milioni di euro e questo permette di pareggiare, di tenere in pareggio il proprio bilancio, di non sforare i limiti imposti dal calcolo del patto di stabilità relative al rapporto tra spesa corrente e indebitamento e quindi di non incorrere in sanzioni da parte del governo che è il controllore. Cassa depositi e prestiti si assume questo ruolo da una parte o nel breve periodo può essere considerata anche un ruolo positivo nei confronti di quegli enti locali che hanno la possibilità di cedere l'inceneritore, piuttosto che la partecipazione nella società che gestisce gli aeroporti, piuttosto che alcuni beni immobili nel breve periodo, nel medio-lungo periodo gioca un ruolo totalmente alieno agli interessi pubblici. Oggi venendo qua verso Sant'Orso mi sono fermato a Peschiera del Garda dove nei giorni scorsi, nelle settimane scorse si è perfezionato la cessione del sistema delle fortezze di Peschiera, c'è tutta parte delle caserme e dei beni del demanio, ex demanio militare, le fortificazioni della città a Cassa depositi e prestiti dopo che queste erano state oggetto ovviamente di alcune variazioni urbanistiche, nel senso che monumenti storici del nostro paese hanno ottenuto la possibilità di essere trasformati in ristoranti, piuttosto che abitazioni, piuttosto che hotel di Charm, quando non si è data la possibilità che Cassa depositi e prestiti prestasse risorse al comune di Peschiera per intervenire, per valorizzare, ma da un punto di vista storico-artistico e culturale, quei beni che rappresentano davvero, perché così lo dice la tutela, qui erano sottoposti da parte del Ministero dei beni culturali, un monumento storico della Nazione. Sì, quindi di fatto noi siamo di fronte a una situazione in cui Cassa depositi e prestiti un po' droga l'economia pubblica, ovvero svuota i comuni, i territori dei propri patrimoni e immette sostanzialmente della liquidità nei comuni, ma che di fatto non risolve i problemi nel medio e lungo periodo, di fatto il comune di Firenze è riuscito a stare nel patto di stabilità, ha perso un patrimonio del proprio territorio perché non lo controlla più ed esce comunque dalle logiche di gestione che l'ente locale invece ha proprie e di fatto incassa una liquidità che però gli permetterà un po' di fare delle cose, però non in ottica di medio e lungo periodo. E' proprio questo un po' il nodo centrale, ovvero se con i miei soldi che in questo caso sono messi in posta alla fine viene fatto qualcosa che è contro di me, è lo stesso ragionamento che dobbiamo fare anche nel campo della finanza privata, ovvero se i miei soldi che io deposito in banca vengono poi utilizzati per finanziare le centrali a carbone o vengono utilizzati per fare attività speculative sulle materie prime, sul cibo, piuttosto che vengono utilizzati per finanziare grandi opere che di fatto di grande hanno solamente, che deturpano il costo e il disastro ambientale che provocano, alla fine qual è il mio ruolo attivo come cittadino? Pensiamo ad esempio in campo della finanza privata i disastri che provoca il ricorso ai paradisi fiscali da parte delle banche, sostanzialmente quelli sono soldi nostri che vengono sottratti alla collettività, ovvero le banche prendono i soldi, li utilizzano attraverso tutta una serie di scatoli per portarli in posti dove gli utili che fanno vengono completamente detassati, sostanzialmente è semplicemente un modo per togliere risorse a noi stessi e in cassa depositi e prestiti mi sembra che una serie di attività di sostegno a grandi opere vanno proprio, seguono esattamente la stessa logica, infatti era interessante vedere il parallelo con la finanza privata, nel senso che negli anni proprio della crisi cassa depositi e prestiti accelera a mio avviso il desiderio di assomigliare sempre di più alla peggior finanza speculativa che forse in Italia non abbiamo neanche mai conosciuto in questi termini, perché sostanzialmente, adesso magari Luca ci racconta anche un po' di esempi di cosa fa cassa depositi e prestiti con queste ingentissime risorse, perché di fatto sono 230 miliardi di Euro ed è una buonissima notizia per noi cittadini, sappiamo che i soldi per uscire in qualche modo dal disastro in cui ci troviamo, probabilmente sono dentro cassa depositi e prestiti, se ne parla ogni giorno, adesso ripianiamo i debiti degli enti locali verso le imprese e ci dà cassa depositi e prestiti, risistemiamo le scuole, i soldi ci dà cassa depositi e prestiti, si tratta di vedere però a che prezzo a questo punto, visto che lo scopo di cassa depositi e prestiti è la produzione di profitti e la realizzazione in qualche modo di un sistema di potere che mal si può in questo momento conciliare probabilmente con quello che è l'interesse della collettività. Rispetto a un po' di esempi che vengono citati nel libro, poi Luca se vuoi allarghi, sicuramente era interessante tutta la partita su Malpensa e probabilmente anche fare un breve passaggio sulla recente attualità rispetto anche al ruolo possibile, potenziale nella partita di Alitalia e l'altro esempio probabilmente molto interessante prima di passare poi alle partecipazioni strategiche invece quello dell'acqua, dove sostanzialmente anche il ruolo di Bassanini anche rispetto ad una celebre frase come il referendum sull'acqua secondo Bassanini fosse stato un utilizzo sbagliato di uno strumento democratico, alla fine non è andato come volevi due perché abbiamo usato il referendum per una roba che non si poteva chiedere. E lui il costituzionalista e non noi, quindi non ci permettendo mai di giudicare il costituzionalista. Sì, nel corso degli anni Cassa Depositi e Prestiti è diventata, lo dicevo, un gruppo, di questo gruppo fanno parte in particolare due società. Uno è un fondo di investimento che si chiama F2I e un altro si chiama Fondo Strategico Italiano. F2I è stato anche il soggetto grazie al quale ci siamo resi conto che il Cassa Depositi e Prestiti aveva un po' cambiato pelle. Nel senso che nel 2009, tra il 2008 e il 2009, F2I diventa azionista di Mediterranea delle Acque, che è la società che gestisce l'acquedotto della città di Genova, quindi una delle più importanti città italiane. Anzi, nel momento in cui avviene questo ingresso, ci sono dei comunicati stampa roboanti in cui Cassa Depositi e Prestiti dichiara, in cui F2I dichiara che è suo interesse andare a creare il campione italiano dell'acqua, sfruttando le grandi possibilità che si sarebbero aperte grazie alla legge Ronchi, cioè quella legge che poi è stata abrogata dal referendum di due anni e mezzo fa, che obbligava a scegliere il gestore attraverso una gara e ad aprire il capitale a soggetti privati. In quel momento lì abbiamo percepito che Cassa Depositi e Prestiti guardava certo con interesse al servizio idrico, ma non secondo la logica che ad esempio avrebbe mosso o muoveva l'interesse e l'attenzione dei movimenti referendari. Sappiamo benissimo, perché Fede Utility, l'associazione di categoria dei gestori, ce lo ricorda ogni anno, che nel nostro Paese sarebbero necessari 2 miliardi di Euro di investimenti l'anno sulla rete acquedottistica, ma soprattutto sulla rete fognaria e su quella di depurazione, fognature e depurazione. Che questi 2 miliardi di Euro attraverso, non possono essere raccolti attraverso le bollette dei cittadini, cioè che se tutte queste risorse venissero applicate sulle tasche dei cittadini attraverso la tariffa sarebbe probabilmente un costo eccessivo, per quale motivo si immaginava o si è anche chiesto, non potesse esserci un ruolo di Cassa Depositi e Prestiti come prestatore di risorse a tasso agevolato a favore dei gestori per realizzare gli investimenti, perché risulta che le Utility, le società italiane che gestiscono, le municipalizzate, le società che gestiscono i servizi pubblici locali sono fortemente indebitati e in particolare lo sono con il sistema bancario privato. Ovviamente la risposta l'ha data chiaramente Franco Bassarini, perché da Presidente di Cassa Depositi e Prestiti non ha visto nessun vizio nemmeno di forma, dato il ruolo istituzionale che ricopriva, a diventare vicepresidente del comitato per i no ai referendum, quindi un ruolo effettivo e per il resto l'azione successiva al referendum da parte di Cassa Depositi Depositi e Prestiti non è cambiata di una virgola, nel senso che recentemente, ovvero nel corso dell'ultimo anno e fino all'inizio, con un'operazione che si è conclusa in inizio 2014, attraverso il fondo strategico italiano ha sostanzialmente, si è inserita nel percorso di aggregazione tra due grandi società quotate in borsa, ERA, che gestisce gli acquedotti a Bologna, Modena e poi Romagna e a Cegasso APS, cioè la società dei comuni, che era dei comuni di Padova e di Trieste, anche quella è una società quotata in borsa. Oggi il fondo strategico italiano di Cassa Depositi e Prestiti è socio e azionista della olding o della società nata dalla fusione delle prime due. Andrea faceva un esempio che riguardava il settore invece dell'aeroportuale, qui si rasenta, si potrebbe arrivare a una situazione paradossale, nel senso attraverso F2I, il fondo di investimento F2I, oggi Cassa Depositi e Prestiti è presente, è azionista di maggioranza o azionista di società che gestiscono gli scali di Torino, il Guedimilano, Bergamo, Bologna, Firenze, Napoli, che sono gli scali attraverso cui passa oltre un terzo del traffico aeroportuale italiano. Nel contempo, nel momento in cui, ed è successo con il piano di privatizzazione privatizzazione promosso dal governo Letta, si parla o si preannuncia la possibilità di una privatizzazione dell'ENAC, dell'ente nazionale di controllo sull'aviazione civile, la stessa F2I, lo stesso fondo di investimento si fa avanti per rilevare la quota che il governo, che lo Stato intende cedere. Si potrebbe arrivare al paradosso di un controllore e di un controllato che sono lo stesso soggetto, diciamo così, di un controllore che ha lo stesso azionista di soggetti controllati ma che hanno una quota di mercato significativa e che però questo azionista e questo controllore non sono pubblico e pubblico ma sono privato e privato, il privato che deve controllare se stesso. L'operazione malpensa, così come quasi tutte le operazioni in ambito aeroportuale, dal mio punto di vista, diciamo così, all'inizio quando sono iniziate io ero francamente un po' spaventato da quello che vedevo. Oggi vedo più queste operazioni davvero come quella sorta di aiuto portato nei confronti di amministrazioni comunali che probabilmente hanno rapporti particolari con cassa deposito e presi. Nel libro credo che usiamo l'espressione soccorso rosso, nel senso che l'ingresso in SEA, nella società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, è un aiuto per il Comune di Milano. L'acquisto dell'aeroporto di Torino, SAGAT, è un aiuto nei confronti dell'amministrazione comunale di Torino che è risaputo, ossia la più indebitata d'Italia. L'acquisto addirittura attraverso il proprio fondo F2I, Cassa dei Boschi e Presidi, ha acquistato dal Comune di Torino anche l'inceneritore costruito, non ancora entrato in funzione, con il suo carico di indebitamento di cui il Comune si era fatto carico per realizzare l'opera, questo è stato acquisito in partenariato con IRE. Veramente la volontà di dare un po' di liquidità, però salvaguardando e mantenendo in piedi operazioni, imprese o interventi che probabilmente ogni tanto sarebbe bello anche immaginare potessero fallire. Per fare l'esempio di Malpensa, quello che io anche in alcuni scritti, non so se qui nel libro, ma quello che abbiamo provato a immaginare come situazione, l'aeroporto di Malpensa è un aeroporto che vive una fase abbastanza critica, il numero di passeggeri si riduce di anno in anno, l'idea di questo grande aeroporto al nord ovest di Milano risulta sostanzialmente fallita, fallimentare, nonostante questo c'è un progetto che è quello di realizzare la terza pista, una terza pista che verrebbe realizzata in pieno parco del Ticino, quindi in un'area protetta. Al Comune di Milano che voleva vendere le proprie quote, a un soggetto privato, in questo caso il Fedui, abbiamo avanzato una richiesta, mettete in vendita le quote di SEA, la società che gestisce l'aeroporto, ma prima blindate con un vostro parere negativo, in fondo siete e resterete comunque l'azionista di maggioranza, il piano industriale cancellando ogni ipotesi di terza pista a Marpenza e vediamo se il privato o il fondo di cassa deposito e presidi vorrà entrare lo stesso. Questo perché, aggiungo un buon aspetto che magari non per tutti è chiaro o conosciuto, non è che gli aeroporti sono dei servizi di mercato che vivono in un mercato totalmente libero, la gestione aeroportuale affidata tramite concessioni governative, queste concessioni governative riconoscono anche una capacità di caricare dei costi da parte del gestore su ogni singolo passeggero attraverso le compagnie sulla base degli investimenti programmati, un po' come funziona sulle tariffe di qualsiasi servizi pubblici locali. Questo significa che se io riesco a farmi approvare il progetto della terza pista di Marpenza, anche se inutile, io posso caricare su ogni biglietto emesso dei costi di investimento, tanto che la massima opposizione a questa terza pista su Marpenza non veniva, veniva certo dai comitati ambientalisti, dai comitati dalle associazioni ambientaliste, ma ricorsi al TAR sono stati fatti anche da EasyJet, primo operatore, primo aerovettore a utilizzare Marpenza, sa benissimo qual è il grado di saturazione dell'aeroporto che è molto basso e probabilmente non anche essendo una compagnia aerea che ha sposato, che vive dei passeggeri low cost, quindi che ama non pagare poco i biglietti dei loro viaggi, probabilmente non aveva alcun interesse a caricare su ogni singolo biglietto credo circa 2 Euro per un intervento infrastrutturale inutile. L'esempio di questi giorni di Renzi che dice usiamo cassa depositi e prestiti per pagare i debiti della pubblica amministrazione però ci dice anche una cosa importante, ci dice che il governo può indirizzare le politiche di cassa depositi e prestiti, può indirizzare le scelte economiche di quella che formalmente dovrebbe essere un'azienda terza e quindi dotata di un proprio piano industriale autonomo. Non ci sono riusciti nel caso di Alitalia, prima faceva riferimento a Andrea, quando le hanno detto comprate Alitalia le hanno detto no, perché probabilmente una cassa depositi e prestiti che ama agire nell'ombra di certo non voleva diventare azionista del più grande flop economico del nostro paese perché avrebbe rischiato ovviamente di scoprirsi e di scoprire le carte. però quello che è indicativo è che comunque il governo ha o manifesta volontà e capacità di influenzare le scelte della cassa. Questo io lo vedo come positivo, nel senso basterebbe un po' di fantasia davvero per cambiare le politiche e le scelte in merito all'utilizzo delle risorse della cassa e poi, ma magari ci arriviamo dopo, anche di indirizzare le scelte industriali di alcune aziende strategiche per il nostro paese che oggi non sono più controllate dal ministero del tesoro ma che sono controllate da cassa depositi e prestiti e parlo di Eni, di Snam e di Terna. Faccio un passo indietro parlando di strategicità per fare un esempio che da una parte volendo introduce anche il prossimo incontro con Davide Bioghini e Chiara Spadaro e dall'altro dà l'idea di cosa intendo quando dico che bisognerebbe o si potrebbe usare un po' di fantasia. Cassa depositi e prestiti ha trattato, poi questa è un'operazione che trattata durante tutto il 2013 non si è conclusa positivamente, l'ingresso in una società che gestisce, che costruisce e gestisce centri commerciali, i marchi Iper e Unes, centri commerciali e supermercati. Avrebbe investito in quest'operazione 100 milioni di euro. Allora io credo, ovviamente non ho fatto calcoli, analisi economiche rispetto alla possibile ricaduta, però immaginiamo di prendere questi 100 milioni di euro, di spacchettare in 107 fondi da poco meno di un milione di euro, un fondo per ogni provincia italiana. Fondi magari di dimensioni medio piccole, io lo dico non perché ci sarebbe stasera, ma lo dico sempre quando faccio gli incontri, che potrebbero essere amministrati ad esempio da Banca Popolare Etica. Fondi da un milione di euro per ogni provincia per sostenere lo sviluppo delle reti e dei distretti di economia solidale, per sostenere da un punto di vista di investimento le esperienze di piccola distribuzione organizzata. L'osservatorio di altre economie ci permette di dire che molto spesso queste esperienze si scontrano a un certo punto del loro percorso di crescita con l'impossibilità di continuare ad andare avanti perché non ci sono le risorse economiche da investire per ad esempio sostenere la realizzazione di una piccola piattaforma logistica che permetta di un incontro tra produttore biologico e consumatore locale che non gravi troppo sulle spalle dei primi, che se devono essere produttori non hanno tutto questo tempo da dedicare alla fase di commercializzazione. Credo che nel 2013 pensare di investire in centri commerciali non sia assolutamente strategico e queste operazioni vengono fatte attraverso il fondo strategico italiano, non sia affatto strategico, mentre sostenere questo tipo di realtà probabilmente dovremmo far avere a Bassalini una copia di un'economia nuova del gas alla zeta così capisce che esistono, mentre investire e sostenere questo tipo di nuovi sistemi di scambio o di incontro tra consumatore e produttore, come peraltro fa banca etica, potrebbe essere davvero strategico e non solo dal punto di vista economico e non solo dal punto di vista sociale, anche dal punto di vista ambientale. Io immagino nel momento in cui vedo che cassa depositi e prestiti investe nella grande distribuzione, nella mia testa mi dico loro hanno interesse nella filiera agroalimentare perché la grande distribuzione non è il supermercato ma è un modo da cui deriva un'organizzazione della filiera agroalimentare che preferisce le produzioni estensive, che preferisce produrre laddove c'è una maggiore resa possibile, quindi magari delle pianure erudionali particolarmente fertili, ma questo significa anche abbandono del territorio, che significa poi o che comporta poi un costo significativo. L'agricoltura contadina di montagna che viene meno significa che i terrazzamenti vengono abbandonati, che la presenza e la manutenzione del territorio viene meno. L'agricoltura, la piccola distribuzione organizzata, quella dei rapporti diretti e dei distretti di economia solidale e delle reti di economia solidale invece favorisce il mantenimento anche di quell'agricoltura marginale che non può trovare spazio nella grande distribuzione, quindi probabilmente anche dei interventi che riducono costi futuri possibili per lo Stato, che esempio sono i costi per ripristinare situazioni di sesto idrogeologico. Allora quale tipo di intervento potrebbe essere davvero strategico? Un unico fondo, un unico investimento da 100 milioni oppure creare tutti questi piccoli fondi o questi fondi diffusi sul territorio? Dal mio punto di vista una cassa lungimirante potrebbe fare il secondo. Faccio un altro esempio e poi passiamo alla domanda successiva. Nel libro in Antonio proviamo a suggerire la possibilità di creare dei libretti di risparmio postale di scopo e faccio anche più un esempio concreto. L'Italia è un paese ricco, nel senso che a fronte di 2 mila miliardi di debito pubblico ci sono circa 8 mila miliardi di risparmio privato delle famiglie italiane. più o meno la metà sta nelle case, però ci sono anche circa 4 mila miliardi che vengono investiti in vario modo. Allora pensiamo una cosa, se lo Stato italiano avesse davvero manifesta la volontà di realizzare la più grande, forse l'unica grande opera o una delle poche grandi opere necessarie, ovvero spendere quei 10 miliardi che servono per la ristrutturazione del centro storico dell'Aquila. Se avesse davvero voglia di farlo, perché non pensare all'istituzione di un libretto di risparmio di scopo che si chiama l'Aquila, o ricostruiamo l'Aquila, chiedendo ai cittadini italiani di investire in quel libretto di risparmio. Quando dico investire significa che non è che ognuno di noi regala 50 euro per la ripostruzione dell'Aquila, tu depositi il tuo risparmio per il quale ti viene riconosciuto ad un tasso di interesse, risparmi che sono, come dicevamo prima, garantiti dallo Stato, ma che intanto danno al governo, che evidentemente non ne ha la disponibilità, la provvista, la liquidità per far fronte a quelle spese ritenute necessarie e prioritarie. Voi pensate che i cittadini italiani non sceglierebbero, piuttosto che depositare quei soldi su un conto corrente bancario di Unicredit che finanzia le centrali a carbone, un'intesa San Paolo che finanzia le autostrade ed è il primo azionista della società che vuole realizzare la Valdastico Nord, soltanto per fare un esempio che vi tocca abbastanza da vicino, piuttosto che prendere quei soldi e spostarli su un fondo che vuole restituire all'Italia un gioiello che abbiamo perso e che rischia di essere perso per sempre. Io credo che siccome siamo ancora abbastanza intelligenti tutti, ci sarebbe un interesse importante da parte dei cittadini italiani di fronte a un fondo o a possibilità di realizzare un investimento di questo tipo. e magari una cassa deposita e presidi con una classe dirigente un po' più dotata di fantasie, non così attenta soltanto alla vecchia ricetta del mattone, potrebbe senz'altro scegliere di spostare la propria, di indirizzare i propri interventi in questo modo. Sì, ma diciamo che il quadro un po' che ne esce adesso si sta abbastanza delineando ovvero noi abbiamo un grande tesoro del quale effettivamente ne parlavamo anche prima con Luca Martinelli e Antonio Tricarico, pare che nessuno si voglia veramente occupare, voglia andare a vedere dentro cosa c'è. Quindi sostanzialmente la domanda un po' che come persone ci possiamo un po' fare, ma di fronte a tutto questo, come ci possiamo comportare, cosa possiamo fare. nel caso della finanza privata un po' l'esperienza che anche a livello europeo si sta sviluppando in questi anni, varia su due fronti sostanzialmente, uno è il fronte della politica, quindi noi abbiamo che ovviamente chi è che regola la finanza, quindi se le banche possono fare tutto quello di cui abbiamo parlato prima, da paradisi fiscali, attività speculative di vario tipo, lo possono fare in modo tendenzialmente legale o comunque anche quando è illegale, facendola franca in tanti modi. Questo avviene fondamentalmente per il problema che dicevo all'inizio, perché noi cittadini ci siamo disinteressati della finanza e chi scrive le regole che regolano la finanza sostanzialmente sono i politici, però sotto dittatura delle banche, quindi su questo va proprio costituita una sorta di contro lobby, cioè di un soggetto terzo tra banche e governi che possa orientare le scelte dei governi. La proposta che non è una proposta solo di banca etica, è una proposta comunque che si sta portando avanti a livello internazionale e probabilmente anche in rete con tante altre esperienze di banche etiche alternative che sono a livello europeo porteremo anche come riflessione verso le elezioni europee, non ovviamente con un impegno in politica diretto, ma in qualche modo perché i cittadini devono in qualche modo anche far capire ai politici che non è che tutti candidi perché sei bello o sei bravo a parlare, ma le persone poi ti votano se tu rispondi concretamente a delle istanze sono sostanzialmente nell'ambito della riforma della finanza, il contrasto ai paradisi fiscali, una delle cose delle quali non parla mai nessuno, tra i politici, la separazione tra le banche commerciali e le banche di investimento dove sostanzialmente io cittadino avrò tutto il diritto di sapere quando do i soldi alla banca e questa banca non ci gioca al casino, non li prende per andare a fare delle scommesse sicuramente molto rettizie, ma che mettono a rischio i miei risparmi, ma che invece vengono utilizzati in modo responsabile per finanziare delle attività reali e la tassa sulle transazioni finanziarie che è un tema sempre più di attualità perché sostanzialmente non tanto secondo me per il gettito che ne potremmo trarre, ma quanto per la riduzione dei rischi che continuiamo a correre, voi dovete pensare che ogni giorno nei mercati finanziari transita qualcosa come 4 mila miliardi di dollari al giorno, che è esattamente quasi 90 volte quello che sono gli scambi dell'economia reale, quindi le banche, i gruppi di investimento, i fondi di investimento giocano con un'economia, adesso ve la spiego proprio in modo che la capiamo, con dei soldi finti per quasi il 90%, un importo del 90% superiore a quelli che sono i soldi reali, quando questo meccanismo si inceppa la prima cosa che perdiamo sono i soldi veri, quindi la ricchezza delle persone, che poi è un po' il meccanismo che ha innestrato la crisi, quindi sicuramente e poi vediamo anche nello speculare rispetto a cassa depositi e prestiti, l'impegno anche per fare pressioni sulla politica affinché non si limiti all'effetto annuncio, ovvero usiamo cassa depositi e prestiti per, ma anche perché sia chiaro qual è il meccanismo di funzionamento e anche trasparente, può essere già un primo pezzo. L'altro pezzo è quello anche di avere un ruolo attivo soprattutto per quanto riguarda la finanza privata, come cittadini, banca etica è una risposta, lo sono le mutua e autogestione, le MAG, un'altra risposta, lo sono i crediti cooperativi, nel momento in cui le persone che decidono, che vorrebbero che il loro risparmio venisse utilizzato sul proprio territorio, hanno anche la capacità però di andare a chiedere conto al credito cooperativo, in 15 anni da quando è nata banca etica noi siamo ancora gli unici in Italia a dire puntualmente come impieghiamo i soldi dei risparmiatori, questa è una vera assurdità che il credito cooperativo bisogna che chi anche sui territori affida i propri risparmi ricominci ad andarlo a chiedere, a fare campagna su questo, perché è impossibile che per quanto poi tutti, anche quando facciamo le opinioni, i crediti cooperativi con le bantici si chiedono anche bravi, anche bravi, che questi nessuno voglia dire come impiega i soldi dei cittadini, quindi bravi, bravi però appunto bisogna anche che loro stessi sentano un po' con la responsabilità, quindi di fatto la cosa bella di tutto questo ragionamento che certo per certi versi è molto triste, però la buona notizia è che i soldi che stanno usando le banche, che i soldi che usa Cassa Depositi e Prestiti non sono altro che soldi nostri, quindi semplicemente dobbiamo esercitare un diritto che è un diritto vero e proprio di sapere come vengono usati i nostri soldi e anche di dire come vorremmo che venissero usati, anche sulla raccolta di scopo che mi sembra un'idea veramente ottima anche sul livello territoriale, anche in banca etica e da anni che abbiamo fatto i certificati di deposito per il commercio equi, ma sono anche questi temi sui quali ci sono paratterie di innovazione anche per noi, ovvero come trovare le modalità per raccordare veramente il risparmio dei territori rispetto alle iniziative locali, non è semplice perché ovviamente un finanziamento non è solamente prendo i soldi e li do, ci sono tutta una serie di altri parametri, ovvero per ogni finanziamento ci deve essere una parte di capitale sociale di copertura, ma è un tema sul quale stiamo comunque ragionando e dove effettivamente anche le suggestioni che si trovano nel libro La posta in gioco sono sicuramente interessanti per accendere un po' le idee e anche la voglia che secondo noi dovremmo avere tutti in qualche modo di dire che con i nostri soldi si fa quello che diciamo noi sostanzialmente o quantomeno ci fate vedere cosa ne fate. rispetto anche al libro la parte un po' propositiva quindi come le persone oggi si possono già attivare in modo concreto per fare in modo di cambiare la cassa depositi e prestiti che così com'è non ci piace ma che invece avrebbe un grande potenziale per piacersi di più. Sì, allora il libro nasce anche per accompagnare un percorso che è ancora in infiri, cioè in costruzione che è quello di una campagna che prenderà il nome di per una nuova finanza pubblica e sociale che ha come oggetto, come ha una delle leve della della sua azione, proprio una campagna di risocializzazione di cassa depositi e prestiti. Il tentativo o uno dei punti di partenza capisaldi di questa campagna è la richiesta intanto che cassa depositi e prestiti torni a essere un soggetto interamente pubblico, quindi riacquistare le azioni oggi date in cedute al sistema delle fondazioni bancarie e dall'altra di istituire già oggi cassa depositi e prestiti a un comitato di indirizzo per gli investimenti, a un comitato di sorveglianza, però queste istituzioni sono composte da soggetti che sono emanazioni della confindustria piuttosto che di altri poteri economici. Il comitato di sorveglianza e il comitato di indirizzo sugli investimenti dovrebbe essere, come ad esempio il comitato etico di banca etica composto dagli stakeholder e dai portatori di interesse dei territori in cui il soggetto opera, la possibilità di garantire un controllo da parte dei cittadini anche mediante proposte di modifica della governance che apra la possibilità di ad esempio valutare, scegliere le capacità e le possibilità di investimento sul territorio a assemblee degli utenti, cioè degli risparmiatori postali di un determinato territorio. Non c'è niente di strutturato, c'è soltanto la volontà o l'idea di poter applicare meccanismi di gestione partecipativa che già si immaginano e si sono immaginati in altri ambiti anche alla gestione del risparmio postale di cassa deposito e prestiti. Di certo però tutto questo non sarà possibile finché la cassa resterà un soggetto privato, un soggetto partecipato da realtà che sono le fondazioni bancarie che hanno tutt'altro interesse rispetto a quello di spostare l'attenzione, l'azione e le politiche e le scelte della cassa nelle direzioni che noi auspichiamo. Il titolo del libro è la posta in gioco perché ovviamente tutto questo che abbiamo provato a raccontare questa sera mette in gioco anche il nostro futuro. Nel momento in cui risorse così ingenti vengono indirizzate ancora oggi verso il trasporto aereo, infrastrutture pesanti come le autostrade, processi di privatizzazione, noi ci stiamo o stiamo rendendo ogni giorno più difficile il nostro futuro. Perché credo che ormai sia evidente o almeno per me è evidente che dobbiamo immaginarci un modello di sviluppo, un'idea di sviluppo totalmente diversa e che queste scelte prese oggi ci ancorano per i prossimi 30 anni a un modello di consumo, un modello di mobilità, un modello di gestione di determinati cicli, ad esempio quello dei rifiuti, che ormai sono da considerarsi passati, finiti. La cassa potrebbe dare, la cassa depositi e prestiti, le risorse che ha a disposizione potrebbero dare una mano per andare in una direzione o per andare nell'altra e probabilmente è l'unico soggetto che può farlo con una capacità o con un portafogli così gonfio. Per questo ad esempio accenno a un aspetto legato alle grandi partecipazioni strategiche che lo Stato ha dato a cassa depositi e prestiti, a me pare quasi folle o sintomatico dello stato comatoso in cui è il paese che nel momento in cui il dibattito pubblico è o si concentra su veramente un dibattito politico e il cui livello culturale è ridotto ai minimi termini, stiamo procedendo alla cessione del 49% della società che controlla la rete gas del nostro paese e la rete elettrica del nostro paese, Cioè la società CDP-RETI che controlla SNAM ETERN. E questo sta avvenendo da parte dei media mainstream, quelli che avrebbero anche l'opportunità di influenzare i decisori politici nel silenzio più totale. E noi un giorno ci sveglieremo che ci sarà rimasta la proprietà del 15% della rete di adduzione gas del paese e di altrettanto della rete elettrica attraverso cui passa tutta l'energia che viene distribuita. Sono sì infrastrutture strategiche, probabilmente venderle a un costo che è superiore, a un costo in termini sociali che è superiore al valore che ci verrà riconosciuto nel vendere. E d'altra parte siccome queste sono anche società che hanno un peso impattante per quanto riguarda le possibili scelte di politica industriale, io preferirei che fossero in mano pubblica e che ci fosse un pubblico che può intervenire. SNAM vorrebbe realizzare un lunghissimo e gigantesco gasdotto da Brindisi alla pianura padana, a un paese in provincia di Bologna che si chiama Minervio. Io preferisco che questo soggetto sia sotto il controllo pubblico e che a un certo punto, spero, possa arrivare qualcuno che abbia il buon senso di dire guardate che i consumi di gas stanno crollando, guardate che non torneranno più ai livelli del 2006-2007 perché non torneremo mai a quei livelli di sviluppo economico che probabilmente sviluppo non era. facciamo in modo di evitare di realizzare un gasdotto che attraversa tutte le zone più sismiche del paese perché verrebbe costruito lungo il Trinale dell'Appennino, quindi andando a toccare dall'Abruzzo all'Umbria alle Marche tutte le zone che sono state efficiente e terremoti più forti degli ultimi 15 anni in Italia. Un giorno ci sveglieremo che qualche fondo di investimento avrà acquisito Snam CD per Egli e quindi anche Snam che probabilmente nell'ottica di massimizzare il proprio profitto vedrà di buon occhio la realizzazione anche di questo investimento. Grazie Non so se avete delle domande, considerazioni, insomma, sentitevi liberi. Grazie Grazie a tutti.